Buongiorno! Finalmente libero! Sessione estiva ufficialmente finita, sono tornato a Marsala, mi sono spelato perché faceva caldissimo e adesso comincio a sentire l'odore dell'estate. Adesso dovrebbe venire Dario il Bello a portarmi un lavoro da fare e prendersi un caffè con me. Dopodiché sbrigo alcune cose e vediamo come si svolge la mattina. Infatti, come potete leggere, sta arrivando Dario. Doveva venire Dario e invece no, forse si è perso, fatto sta che io devo uscire di casa e lui non è ancora venuto, quindi mandiamogli un messaggio. Fra, sto uscendo di casa, non mi provi, ci sentiamo dopo. Non so l'è, mi sentite. Adesso è quasi l'ora di pranzo, quindi pranzerò con frutta perché non ho voglia di mangiare fa troppo caldo e poi corro al mare dove mi aspetta Lele, siamo io e Lele perché tutti gli altri lo studio non lavorano e quindi siamo io e Lele e ci andiamo a fare un bagno perché fa veramente, veramente caldo. Ok, sono arrivato a casa di Lele e il primo bagno è sempre più vicino. Poi in realtà l'ho già fatto il primo bagno, ma adesso è il primo bagno d'estate, stanno a mare insomma. Siamo ripartiti con i vloggi più cazzuti che mai. E quindi ci stiamo accingendo a fare la prima giornata di mare. No, in realtà per me, per te no, per te neanche, quindi solo per me è la prima giornata di mare. Il diciassettesimo. È il primo bagno reale, anche se il primo maggio ho fatto il primo bagno ma non vale. Tipo il problema di venire a fare il bagno qua è che è congelata l'acqua, è solo artrosi. È troppo freddo. L'acqua è fredda. Io essendo stato tre quarti d'ora sotto al sole, sono caldo, quindi a rigor di logica, a rigor di logica, lo sbalzo di temperatura. Ora, in chimica cos'è lo sbalzo di temperatura? Adriano, non mi farò parlare a me, con i denti d'oro mi viene difficile. Certo. Domani, domani. Stasera avrei voglia di pizza, quindi forse prenderò una pizza. Io mangio pizza, che va! Lo avevo detto poco fa e ce l'ho fatta. Ci hanno preso la pizza e tipo ora partirà in mani fantastici, credo, tra poco. Però, però, c'è questa signora interessante da vedere. Buon appetito. Ieri, dopo aver mangiato la pizza, mi sono messo a vedere film e mi sono addormentato. Quindi non ho fatto chiusura e niente, perché proprio ho ronfato per la prima volta dopo che non ronfavo così da un po' di tempo, perché fa troppo caldo. E niente, quindi adesso vi metto a montare il video. Ci vediamo domani con un nuovo video, ma mi raccomando, state sempre nel vostro mood. Ciao! 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 Grazie a tutti.